Buona giornata! Oggi, qui da Venezia, un pensiero del giorno fondamentale di George Eliot. Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. Questo semplice pensiero di George Eliot ci dice che non è mai troppo tardi per essere ciò che è quello, per essere ciò che avresti voluto essere, cioè riparti sempre dal qui e ora. Riparti, datti sempre una seconda opportunità, datti sempre un'altra opportunità. Hai sbagliato cento volte? Bene, c'è la cento unesima. Hai sbagliato duecento volte? Bene, c'è la duecento unesima. Quindi, non ti permettere mai di pensare che sia troppo tardi, di pensare che quella particolare occasione ormai è persa. Sì, ok, quella particolare occasione ci sta che sia persa, ma questo non significa che tu non puoi essere ciò che è quello che avresti voluto essere. Quindi impegnati, riparti, riparti oggi dal qui e ora. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti Shanti Shanti. Buona giornata! Ciao! Ciao!